Coinvolge otto classi del comprensivo Veneno Rossi, la positività di un docente, dichiaratamente Novax, come rivelano i suoi posti pubblicati su Facebook, risultato positivo al Covid, all'ultimo tampone rapido effettuato. La curva dei contagi in provincia segnala 31 nuovi casi, 75 guariti e due decessi avvenuti a Palma di Montechiaro e Sambuca, che torna Covid-free. Stabile la situazione negli ospedali, 18 i contagiati a Sciacca, 17 a Ribera. A livello regionale migliorano ancora i numeri della Sicilia rispetto alla settimana precedente, scende sotto la soglia limite del 10% il dato delle terapie intensive e Sicilia che guadagna posizioni anche nella classifica delle vaccinazioni. Acqua, bollette Aica ha superato il problema legato al sistema di pagamento Pacopà, lo ha comunicato stamattina il CDA dell'azienda idrica Comune Grigentini, continuano però i disservizi nell'erogazione idrica a Sciacca. E' stato fatto brillare questa mattina all'arco di secca grande dagli artificieri della Marina Militare di Augusta, l'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nei giorni scorsi dal medico Mimmo Macaluso. Continua la battaglia del testimone di giustizia Ignazio Cutrò contro la burocrazia dello Stato che sembra agire quasi per punirlo per la sua decisione di denunciare coloro che lo ricattavano e pretendevano da lui il pizzo. Ben ritrovati a RMK Notizie. È destinato a salire il numero delle classi dell'istituto comprensivo Mariano Rossi di Sciacca che dovranno adottare la didattica a distanza. Positivo il Covid, infatti un altro insegnante dell'istituto dopo l'insegnante di scuola dell'infanzia. Si tratta di un docente dichiaratamente Novax. Da oggi sospensione delle attività didattiche in presenza per otto classi di scuola primaria dove l'insegnante ha fatto lezione in questi giorni. C'è il servizio. Si aggrava la situazione all'interno dell'istituto comprensivo Mariano Rossi di Sciacca dove il numero di classi in quarantena è sicuramente destinato ad aumentare. Dopo il caso dell'insegnante di scuola dell'infanzia risultata positiva al Covid che ha comportato la chiusura di quella sezione contestuale DAD per i 20 bambini che frequentano quella classe, un altro caso di positività è stato riscontrato su un docente di scuola primaria. Al momento il test che ha confermato la positività è il tampone rapido e dunque si attende l'esito di quello molecolare, così come prevede la prassi. Ma già da oggi è scattata la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli studenti venuti a contatto con questo insegnante. Il docente in questione insegna in diverse aule dell'istituto, tutte di scuola primaria, ecco perché la sospensione delle attività è scattata per tutte le classi in cui l'insegnante ha fatto lezione in questi giorni. Stando a quanto si apprende dalla dirigente scolastica Paola Triolo, i docenti che stanno verificando la loro situazione per essere venuti a contatto con il loro collega risultato positivo, sono quattro, mentre sono otto le aule interessate. A differenza della docente di scuola dell'infanzia che pare fosse vaccinata, il nuovo caso di positività è stato riscontrato invece su un docente non vaccinato e dichiaratamente no-vax. La conferma arriva dal diretto interessato attraverso la sua pagina Facebook, nella quale ripetutamente esprime anche con audiovisivi la sua netta contrarietà al vaccino, che, sostiene, non può essere imposto dallo Stato. Dal tampone rapido, cui è obbligato a sottoporsi ogni 48 ore, così come tutto il personale scolastico non vaccinato per poter accedere a scuola, è dunque venuta fuori la sua positività. Situazione che sta generando apprezzione e malcontento tra i genitori dei bambini che frequentano la scuola e che, stando a quanto si apprende, sarebbero pronti a chiedere l'accesso agli atti ed eventualmente a rivolgersi alle autorità, denunciando il docente, anche se, come è noto, il provvedimento adottato recentemente dal governo continua a non imporre il vaccino a nessuno, ma soltanto il Green Pass, che, come è noto, si ottiene anche con il tampone negativo. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, che ha preso il via esattamente una settimana fa, emergono, insomma, i primi grossi problemi all'interno delle scuole. Ciò che si voleva scongiurare, e cioè il ritorno all'utilizzo della didattica a distanza, è invece un sistema con cui probabilmente bisognerà fare i conti anche per il corrente anno scolastico. Intanto ieri il prefetto, Maria Rita Cocciufa, ha preseduto un nuovo incontro del tavolo provinciale di coordinamento per la didattica in presenza, al quale hanno preso parte l'assessorato regionale ai trasporti, l'ufficio scolastico provinciale Trenitalia e le ditte che prestano i servizi di trasporto in favore degli studenti e la consulta scolastica provinciale. Approvato il documento operativo aggiornato relativo alle nuove modalità di servizio di trasporto in favore degli studenti della provincia, a seguito della ripresa dell'attività didattica in presenza al 100%, servizi che verranno espletati in modo da garantire l'ingresso degli alunni in un'unica fascia oraria. A tale riguardo sono state previste 18 corse aggiuntive e un potenziamento dei servizi anche da parte di Trenitalia relativamente alla tratta Grotte-Agrigento e Agrigento-Racalmuto. La curva dei contagi intanto in provincia segnala 31 nuovi casi, 75 guariti, nessun nuovo ricovero e due decessi avvenuti nei comuni di Sambuca e Palma di Montechiaro. A Sciacca la situazione rimane invariata con 18 persone contagiate, due casi in più a Ribera dove adesso i positivi sono 17. Stabile la situazione dei ricoveri in ospedale. Sentiamo Noemi Tummiolo. Sono 31 i nuovi casi di positività al Covid riscontrati ieri in provincia di Agrigento su 193 tamponi processati, 75 guariti e nessun nuovo ricovero in ospedale. Ci sono stati però, purtroppo, altri due decessi avvenuti nei comuni di Sambuca di Sicilia e Palma di Montechiaro che hanno fatto salire a 343 il totale delle vittime in provincia dall'inizio della pandemia. Sono i numeri contenuti nell'ultimo bollettino dell'ASP, quello che fa riferimento alla giornata di ieri. A Sciacca la situazione è rimasta invariata rispetto alle precedenti 24 ore con 18 persone contagiate. Due casi in più a Ribera hanno portato a 17 il totale dei soggetti positivi al Covid. A zero invece contagio e torna a Covid-free il comune di Sambuca di Sicilia. 16 casi a Siculiana, 49 ad Agrigento che segna 17 casi in meno rispetto al giorno prima. 2 ad Aragona, 3 a Caltabellotta, 1 a Cattolica Eraclea e Cianciana, 28 a Favara, 66 a Licata, 6 in meno. 6 i casi a Menfi, 2 a Montevago. Covid-free i comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamona, Cicomitini, Ioppolo Giancazio, Luca Sicula, Montallegro, Sambuca di Sicilia, Sant'Angelo Muxaro, Sant'Elisabetta, Santa Margherita Belice e Villa Franca Sicula. La situazione negli ospedali vede 20 pazienti ricoverati in area medica al San Giovanni di Dio di Agrigento, e cioè uno in meno, un solo ricoverato nella medicina Covid del fratelli Parlapiano, quattro agrigentini ricoverati presso ospedali fuori provincia e due pazienti in terapia intensiva a Ribera. E migliorano ancora i numeri della Sicilia rispetto alla settimana precedente. Lo rileva la Fondazione Gimbe che evidenzia come sia sceso alla soglia limite del 10% il dato relativo alle terapie intensive, mentre si è registrato un ulteriore calo dei nuovi casi Covid. Sicilia che riesce anche a guadagnare posizioni nella classifica delle vaccinazioni. Sentiamo. In Sicilia nella settimana dal 15 al 21 settembre si registra un miglioramento per i casi di positività al Covid per 100.000 abitanti. In relazione alla campagna vaccinale, la popolazione che ha completato le due dosi è pari al 62,7% a fronte della media nazionale del 69,8% cui aggiungere un ulteriore 5,9% solo con prima dose. La popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 15,9% rispetto al 10,5% del dato nazionale, mentre nella fascia tra i 12 e i 19 anni sono il 39,4% rispetto alla media italiana del 32,1%. Solo 7 regioni italiane hanno raggiunto il 100% del personale scolastico vaccinato. La Sicilia è tra quelle in cui la percentuale di non vaccinati è del 10,9%. Anche sul fronte vaccinazioni, però, nonostante tutti gli indicatori sono al di sotto della media nazionale, la Sicilia sta recuperando terreno nelle ultime due settimane. Incide sicuramente l'effetto Green Pass, obbligatorio dal 15 ottobre, anche nel mondo del lavoro pubblico e privato. Incidono anche le tante iniziative promosse per sensibilizzare la popolazione ancora non vaccinata. Ad esempio, ha registrato un buon numero di adesioni l'iniziativa ABB a casa tua, per tre giorni si è svolta a Raffadali, 300 i cittadini che complessivamente hanno fruito del servizio, secondo quanto riferito dall'aspe di Grigento. La campagna vaccinale on the road anti-covid-19 continuerà da oggi e fino a domenica 26 nei centri di Ravanusa e Campobello di Licata. Le azioni di prossimità messe in campo dall'iniziativa ABB a casa tua nel colmare alcune difficoltà di spostamento da parte dei cittadini verso i centri vaccinali e aziendali mirano a facilitare l'accesso alla profilassa anti-covid, soprattutto in aree geografiche della provincia, dove si registra ancora un tasso di adesione alla vaccinazione fra i più bassi. Per accedere al servizio disponibile senza prenotazione per tutti gli over 12 è sufficiente esibire la tessera sanitaria. Bollette AICA ha superato il problema legato al sistema di pagamento Pagopà, lo ha comunicato in mattinata il CDA dell'azienda idrica Comuni Agrigentini. I disservizi nell'erogazione idrica invece continuano a sciacca. Maria Genuardi. Da oggi è possibile effettuare il pagamento delle bollette idriche attraverso la piattaforma Pagopà e quanto ha comunicato nella tarda mattinata l'azienda idrica Comuni Agrigentini evidenziando dunque che è possibile effettuare il pagamento delle bollette anche presso tutte le ricevitorie convenzionate e presso tutti gli sportelli postali. AICA si è scusata con l'utenza per i disagi subiti, pur sottolineando che il problema con il canale Pagopà non dipendeva dall'azienda e che comunque erano possibili altre modalità di pagamento, ossia tramite bonifico bancario, bonifico eseguito dalle ricevitorie convenzionate oppure con banco, mattocarta di credito, presso gli sportelli aziendali AICA aperti nei comuni di Agrigento, Licata, Ribera e Sciacca. A queste da oggi si aggiunge il canale Pagopà non utilizzabile nei giorni scorsi e che aveva generato disagi e lamentelle da parte dell'utenza, tanto da portare l'azienda idrica Comuni Agrigentini alla decisione di posticipare la data di scadenza della bolletta di 10 giorni. Non sarà adesso necessario, l'utenza può procedere al pagamento con tutti i sistemi possibili. Si tratta della prima bolletta emessa dalla nuova gestione che tiene a sottolineare le tante difficoltà che l'azienda, dal suo insediamento avvenuto il 2 agosto scorso, si è trovata ad affrontare per avviare la complessa gestione del servizio idrico integrato, dall'avvio dei lavori tecnici per l'erogazione idrica e la gestione del servizio di depurazione, a tutte quelle procedure amministrative necessarie per l'avvio del nuovo ente gestore. Per ultimo quella legata all'impossibilità di utilizzare il canale Pagopà venuta fuori dopo che le bollette erano state messe ma già superata. Per venire incontro all'utenza, la nuova azienda che gestisce il servizio idrico in provincia di Agrigento ha annunciato poiché grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali a breve saranno aperti altri sportelli periferici nei comuni gestiti dall'azienda idrica Comuni Agrigentini, oltre a quelli già operativi a Sciacca, Ribera, Licata e Agrigento. Fin qui la questione del pagamento delle prime bollette, ma negli ultimi giorni la gestione AICA è stata al centro delle proteste dei tanti saccensi che non ricevono l'acqua regolarmente. A tal proposito dalla società è stato riferito che i disservizi sono stati legati alla necessità di effettuare un urgente intervento di riparazione, mentre contemporaneamente si sono fermati due pozzi di grattavoli. Per poter recuperare e rimettere a regime l'erogazione saranno necessari altri giorni. Intanto oggi a protestare per la mancanza di acqua sono i saccensi residenti nella zona del mattatoio. E a proposito di disservizi idrici e di rete cittadina fattiscente, a Sciacca è dal mese di luglio che i residenti di Contrada Foggia aspettano si intervenga a riparare una perdita idrica che disperde acqua fino in spiaggia. I residenti mesi fa, chiamando il gestore idrico, erano stati rassicurati che una squadra di operai sarebbe intervenuta al più presto, ma alle parole non si è poi passati ai fatti e litri e litri di acqua continuano a scorrere verso il mare. Più volte ci siamo occupati del caso, ma torniamo a sollecitare un intervento facendoci portavoce dei disagi vissuti dai residenti ad ogni erogazione. È stato fatto brillare stamattina a secca grande dagli artificieri della Marina Militare, un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale e ritrovato recentemente dal medico Mimmo Macaluso durante un'immersione subacquea. Vediamo le immagini. È stato fatto brillare questa mattina a largo di secca grande a località balneare di Ribera, un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale che era stato rinvenuto nei giorni scorsi durante una delle sue abituali immersioni dal medico riberese Domenico Macaluso, studioso di archeologia subacquea, ispettore onorario dei beni culturali per la geologia marina. Ad intervenire, dopo che la capiteria di Porto e il comune di Ribera avevano omesso in sicurezza la parte interessata dal ritrovamento, sono stati gli artificiali del nucleo SDAI, Servizio Difesa Antimezzi Insidiosi, della Marina Militare di Augusta al comando del tenente di Vascello, Marco Presti. Quella rinvenuta era una mina antinave rimasta perso che integra nel fondale di Secca Grande e mai scoperta prima per quasi 80 anni, a 3 metri e mezzo di profondità, a circa 100 metri dalla battigia. I militari hanno prima disincagliato l'ordigno che evidentemente si trovava in un tratto relativamente troppo vicino alla costa, trasportandolo più lontano, al largo, per poi neutralizzarlo, come dimostra questo filmato. Abbiamo ritrovato questo residuato bellico che abbiamo riconosciuto quale mina da fondo tedesca. La mina si trovava parzialmente coperta dalla sabbia, quindi l'abbiamo sfangata, l'abbiamo messa in galleggiamento con dei palloni di sollevamento e poi l'abbiamo rimorchiata in zona di sicurezza dove è stato effettuato il brillamento, quindi la distruzione dell'ordigno. Tutta questa operazione è durata tre giorni. A distanza dalla spiaggia, diciamo? A che distanza? Il ritrovamento era a circa 100 metri dalla costa e il brillamento è stato effettuato a circa 4 miglia dalla costa dove abbiamo ricercato un fondale per impattare il meno possibile con l'ecosistema. Stavo esplorando una serie di cavità sommerse che ci sono scavate nella marna, proprio in quest'area, in questo tratto di mare qui prospicente alla spiaggia di Secca Grande e all'uscita, a pochi metri da questo sistema complesso di grotte molto suggestivo, molto bello, ho visto che c'era questo oggetto che affiorava dalla ghiaia del fondo, perfettamente sferico, metà era sicuramente insabbiato, guardandolo senza toccarlo, perché? Perché nel 1993 avevo già individuato un ordigno che poi era una mina navale, in quel caso era italiana, dicevano gli artificieri che l'hanno disattivata nel 1993 stesso, che era sempre il nucleo SDAE della Marina Militare, una mina italiana P200. Quindi, insomma, è stato facile mettere in collegamento le due relazioni, questi due oggetti, perché praticamente erano simili. E a questo punto, sempre senza toccarlo, ho misurato con la rullina il diametro, che era di, credo, poco più di un metro, quindi molto grande, integra, e ho dato subito la comunicazione alle autorità competenti, quindi Guardia Costiera, Carabinieri, e la Guardia Costiera si è attivata con la Prefettura e con il nucleo SDAE di Augusto. Questo dimostra che questo tratto di mare, a prescindere dalle mine che sono degli ordigni, come per definizione insidiosi, è un tratto di mare ricco di storia che va dal Neolitico alla Seconda Guerra Mondiale. E quindi è un tratto di mare che sotto questo punto di vista, anche in questo caso, è una testimonianza di tanti periodi storici, compresa la Seconda Guerra Mondiale. Sì, un ringraziamento a loro per quello che hanno fatto oggi, cioè per il completamento dell'opera, un ringraziamento doveroso al dottore Macaluso che aveva segnalato la presenza di questa mina e chiaramente la Marina Militare è stata presente immediatamente, si è organizzato il lavoro che stamattina è stato compiuto facendo brillare questa mina. Un grazie veramente di cuore perché hanno messo a salvaguardia la nostra costa e un grazie per la presenza continua che garantiscono ogni volta che sono chiamati all'opera. Brillante lavoro fatto, complimenti ancora. Borgo dello Stazzone a Sciacca, l'ex consigliere comunale Salvatore Monte, ha indirizzato una lettera al sindaco e all'assessore e al dirigente dei lavori pubblici sulle condizioni in cui verse il quartiere, focalizzandosi in particolare alle strutture linee che la Salsedine e diversi agenti atmosferici uniti ad un'assenza di seria manutenzione hanno danneggiato. Da anni ormai sono transennate e inaccessibili. Grazie all'importante strumento della democrazia partecipata si vede la luce alla fine del tunnel in quanto il comitato di quartiere ha proposto un progetto di ristrutturazione che a quanto pare però non sarebbe bastevole per intero intervento di Chiara Monte. L'ex consigliere ha allora pensato di contattare la ditta di Canicattì che realizzò la struttura, la quale si è detta disponibile ad effettuare la manutenzione. Monte spiega che l'unica incombenza per l'amministrazione sarebbe quella di portare con proprio mezzo le strutture presso la sede di Canicattì così da garantire una corretta lavorazione nei loro laboratori. Credo che la disponibilità della ditta non sia da sottovalutare conclude Monte sollecitando l'amministrazione a sposare tale opportunità. Continua la battaglia di Ignazio Cutrò ex imprenditore testimone di giustizia di Bivona contro la burocrazia dello Stato che sembra agire quasi per punirlo per la sua decisione di denunciare coloro che lo ricattavano e pretendevano da lui il pizzo. Il fisco sta tornando a chiedere il pagamento delle cartelle sattoriali che avrebbero dovuto essere bloccate. Inoltre è stata secretata una perizia che stabiliva un riconoscimento economico per le conseguenze che le denunce alla magistratura di Cutrò hanno generato nei confronti della sua attività di impresa. Ce ne parla Massimo D'Antoni. Cioè io contro la mafia ho vinto e poi contro la burocrazia dello Stato che è peggio della mafia no. È più facile battere la mafia che la burocrazia e questa la denuncia firmata oggi da Ignazio Cutrò il testimone di giustizia di Bivona che dopo aver fatto condannare i suoi estortori continua a lottare contro uno Stato che non lo sostiene. L'ultimo episodio riguarda la pretesa da parte del fisco del pagamento di cartelle sattoriali risalente a dieci anni fa ma che, così almeno gli era stato detto, avrebbero dovuto essere bloccate. A me mi stanno ritornando indietro quelle cartelle che io già avevo inviato nel 2012-2013 relative agli anni 2011-2012. Quella cartella che mi è arrivata ora di quasi 28.000 euro è relativa a quel periodo. Quindi quello che mi avevano detto che l'avevano bloccate non hanno fatto niente. Quindi ora significa che io sarò bombardato in questi giorni di tutta la rimanenza delle cartelle che poi io stesso non sono riuscito a pagare perché forse qualcuno si dimentica che io avevo cercato in tutti i modi di pagarle quelle cartelle. Il 90% di chi ha denunciato testimone di giustizia nonne sembra che sia appeso a un filo. Sembra che non ci sia la volontà da chi ha veramente il potere di poter sistemare le cose cioè da quella parte politica che non si vuole prendere la responsabilità di poter sistemare le cose. Ma c'è di più. Il Ministero dell'Interno aveva riconosciuto attraverso una perizia l'erogazione di circa 600.000 euro nei confronti di Cutro come sostegno per la sua decisione di denunciare mafiosi stabilendo con quella somma il nesso di causalità accertando dunque la conseguenza sulla sua attività di impresa dalla decisione di rivolgersi alla magistratura. Ebbene di questa perizia non c'è più traccia. C'erano delle somme che dovevano essere date a me di circa 600.000 euro quindi io avrei risolto tutti i miei problemi con quella perizia nel 2016 io e il mio avvocato abbiamo chiesto di essere auditi dal viceministro Bubbico e lì chiediamo che fine aveva fatto la perizia perché non era stata mai attivata e lì con stupore il viceministro ci ha detto quale perizia e noi gli abbiamo detto come la perizia l'avete fatto fare voi cioè capisco che era stata fatta allora dal sottosegretario Mantomano però sempre lo Stato è sempre quella commissione è allora hanno cercato l'hanno trovata e in quella seduta il viceministro la stava leggendo è stato interrotto e gli ha detto no no non la legga punto e basta allora a Basiti io il mio legale Catella Barbiere mi ha detto come mai consegnatela no 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 e poi ancora a nostro stupore veniamo a conoscenza che da quel momento quella perizia è stata secretata e non me la possono dare perché è secretata io circa da sei mesi che cerco di farmela consegnare almeno dalla commissione antimafia sia anche scrivendo a Morra e a Pieraiello ma tutto ciò ancora oggi non è successo perché nessuno riesce a secretare un atto fatto per me un'autentica odissea dunque quella di Cutrò il quale tuttavia continua a non rimpiangere la decisione di avere denunciato i mafiosi che lo vessavano malgrado tutto quello che è successo qualcuno le dovesse dire ma avresti fatto meglio a farti gli affari tuoi a pagare i tuoi ricattatori malgrado tutto questo lei dice rifarei quello che ho fatto ma certo ma guarda noi non l'abbiamo fatto né per soldi né anche per medaglie abbiamo fatto solo il nostro dobbene abbiamo certo da che parte stare affidata ai carabinieri di Canicattì l'auto del beato giudice Livatino che per la prima volta sarà esposta al pubblico sentiamo i carabinieri della compagnia di Canicattì scorteranno domani mattina la Ford Fiesta Rossa condotta dal beato giudice Rosario Livatino dal luogo in cui è stata custodita negli ultimi 30 anni fino al complesso San Domenico dove l'automobile sarà esposta al pubblico per la prima volta non era un'auto blindata soltanto una piccola utilitaria quella che la mattina del 21 settembre 1990 il magistrato dichiarato beato guidava lungo la strada da Canicattì verso il tribunale di Egrigianto quando i sicari della stida sulla statale 640 all'altezza del viadotto Gasena aprirono il fuoco e quella Ford Fiesta rossa ripresa nelle mille immagini che testimoniano il brutale omicidio del magistrato lasciato al margine della strada dal giudice Livatino nel disperato tentativo di fuggire alla fuglia dei killer resta nella memoria con i vetri infranti dai numerosi colpi d'arma da fuoco sparati dai mafiosi l'auto che si diceva fosse andata perduta è stata recuperata e lasciata dal padre del giudice in eredità una persona molto vicina alla famiglia che l'ha parzialmente restaurata e conservata dichiarata bene di interesse culturale nel 2017 la Ford Fiesta rossa è stata usata durante le riprese del film il giudice ragazzino ora nell'anno della beatificazione di Rosario Angelo Livatino il proprietario ha deciso di affidarla al comandante della compagnia dei carabinieri di Canicattì affinché questa reliquia civile possa essere esposta la Ford Fiesta rossa di Rosario Livatino ascoltata dalle gazzelle dei carabinieri del nucleo radiomobile sarà trasferita al complesso San Domenico di Canicattì dove domani e sabato resterà in mostra durante gli eventi della settimana della legalità rassegna culturale in corso dedicata all'eredità civile morale e spirituale lasciata dal beato Rosario Angelo Livatino il programma di oggi prevede a partire dalle ore 18 la testimonianza di Ignazio Cutro imprenditore antimafia e presidente dell'Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia dalle 19.30 alle 23.30 spazio e quattro turni del percorso di immersione sonora la strada con una passeggiata in cui gli spettatori potranno rivivere momenti salienti dei luoghi simbolo di Canicattì e della vita del giudice Rosario Livatino i partecipanti dotati di cuffie saranno guidati in un percorso sonoro che inizia all'interno del centro culturale San Domenico dove è in corso il festival della legalità per uscire nelle strade della città fino ad arrivare alla casa del giudice Rosario Livatino abitazione vuota da anni che tornerà a risuonare di vita le associazioni Agrigento Extra e Sciacca Turismo rappresenteranno le strutture turistiche di Sciacca alla 13esima ed alla 23esima edizione di Tra Leve e l'Expo che comincerà il 25 settembre prossimo a Città del Mare a Terrasini abbiamo accolto l'invito dell'assessorato comunale al turismo dicono Ezio Bono e Riccardo Palazzotto in rappresentanza delle due associazioni e con un nostro banner e materiale promozionale saremmo presenti all'interno di uno stand del comune di Sciacca la riapertura del comparto turistico dopo l'emergenza nonostante il persistere di tante criticità aggiungono ci impone di essere presenti sul mercato del turismo nazionale ed attivare quell'attività di promozione che oggi è molto più importante del passato purtroppo da alcuni anni il territorio di Sciacca ha potuto contare poco sulle attività promozionali organizzate dagli enti pubblici speriamo che in questa direzione ci sia un'inversione di tendenza e che in generale si dia la giusta valorizzazione al prezioso ruolo che il turismo riveste nella nostra città a tal proposito concludono Bono e Palazzotto a nome dei nostri associati manifestiamo fin da oggi la nostra disponibilità a un confronto serio e proficuo con quanti in vista delle prossime elezioni amministrative pensano di occuparsi di turismo e desiderano apprendere da chi come noi è in prima linea come intervenire per aiutare il settore e di conseguenza favorire la crescita dell'economia cittadina Travel Expo si apre sabato 25 settembre e prevede un fitto calendario di eventi formativi e seminari dedicato agli addetti e ai lavori con incontri dedicati agli operatori del ricettivo dell'intermediazione e delle guide turistiche nasce a Sciacca un nuovo progetto musicale con una formazione jazz composta da giovani musicisti si chiamano al Sacca Sextet e debuttano oggi con un concerto all'atrio inferiore del palazzo municipale l'appuntamento con inizio alle ore 21 è inserito nella programmazione di Sciacca Estate 2021 il calendario di iniziative di spettacolo intrattenimento animazione e cultura promosso dal comune di Sciacca il gruppo è composto da Andrea Ardizzone Latrom e Flicorno Marco Ardizzone al sassofono Calogero Bruna alla chitarra Aurelio Ciancimino al pianoforte Marco Gaudio al basso e Giuseppe Oliveri alla batteria musicisti studenti dei conservatori siciliani che convoiando influenze musicali diverse interpretano brani del repertorio gezzistico classico e moderno il concerto ha il patrocinio del comune di Sciacca e di Schenea Academy l'ingresso è libero ed è richiesto il Green Pass Continuiamo con le notizie il comune di Sciacca ha aderito anche quest'anno alle giornate europee del patrimonio manifestazione culturale europea indetta in Italia dal Ministero della Cultura per riaffermare la centralità del patrimonio culturale e del suo valore storico artistico e identitario dopo l'omaggio lo scorso anno alla lingua siciliana quest'anno l'assessorato alla cultura con la biblioteca comunale Aurelio Casser aderendo al tema patrimonio culturale tutti inclusi ha pensato di promuovere dei laboratori di arte e musica col massimo coinvolgimento possibile le attività creative spiegano il sindaco Francesca Valenti e l'assessore alla cultura Gisella Mondino sono rivolte ai bambini ma anche alle famiglie è un'occasione per far trascorrere un pomeriggio assieme tra arte e musica genitori e figli l'appuntamento è per sabato prossimo 25 settembre dalle ore 18 nell'atro superiore del palazzo municipale a condurre i laboratori saranno gli insegnanti della Schenea Academy l'ingresso è gratuito e per l'occasione sarà aperto il fondo antico della storica biblioteca Cassar il funzionario dell'Unione Europea Gianluca Serra nella splendida cornice offerta dal Consiglio Nazionale delle Ricerche di Capo Granitola ha presentato ieri sera il suo nuovo volume dedicato alla storia delle tonnare di Torretta Granitola e di Sciacca due tonnare di cui si stava perdendo quasi la memoria attraverso le sue ricerche ad esempio l'autore ha scoperto che i tonni pescati e lavorati a Sciacca giungevano all'esercito italiano impegnato sul fronte delle guerre mondiali l'epopea della tonnare a Sciacca ha abbracciato praticamente cinque secoli dal 1492 al 1954 ce ne parla nel servizio Calogero Parla Piano è stato il volume Le tonnare di Capo Granitola e Sciacca il ritorno della memoria edito da Melkart Communication il protagonista del simposio letterario che si è tenuto ieri pomeriggio presso la prestigiosa sede del Consiglio Nazionale delle ricerche di Torretta Granitola frazione di Campobello di Mazzara ad incontrare i presenti l'autore Gianluca Serra funzionario dell'Unione Europea che vive e lavora a Strasburgo lo scrittore ed ex sommozzatore di Donnara Nini Ravazza il ricercatore del CNR Angelo Bonanno e lo storico dell'economia Rosario Lentini è stato un evento emotivamente e culturalmente unico nella ex Tonnara di Capogranitola oggi sede del CNR si sono ritrovati infatti i discendenti dei proprietari Amodeo dell'amministratore Barrabini e dei Rais Barraco è stata onorata anche la memoria di Salvo Mazzola che con la sua visione ha riallacciato al mare la storia di questa ex Tonnara di Sicilia nella redazione del volume per la parte che interessa Sciacca importante il supporto che l'autore ha ricevuto dall'ex sindaco Fabrizio Di Paola la cui famiglia per diversi anni ha gestito la Tonnara di Sciacca ma pure quella di Palma di Montechiaro ed una in Sardegna all'interno del volume anche un prezioso testo del docente universitario Sergio Bonanzinga dedicato all'indagine etnomusicologica che svolse la Sciacca nel luglio del 1954 Alan Lomax e Diego Carpitella nelle interviste ascoltiamo l'autore Gianluca Serra e l'autore della prefazione inserita nel volume Ninni Ravazza oggi è diciamo l'emozione più grande non perché le precedenti siano state minori ma perché finalmente si ritorna laddove questo viaggio è iniziato cioè la Tonnara di Granitola è qui insomma che ho concepito questa idea di scrivere un libro su una Tonnara che poi come ho spiegato in altre occasioni si è aperto anche alla seconda Tonnara di Sciacca non minore e non meno importante di quella di Granitola anzi ben più antica e con una storia ben più densa di eventi oggi presentiamo al CNR che è l'ente che ha patrocinato con un contributo finanziario la pubblicazione di questo libro appropriandosi quindi in maniera molto sensibile del sostrato etno-antropologico della sede presso la quale oggi è ospitata un importante istituto del CNR che si occupa di studiare gli impatti antropici e la sostenibilità in ambiente marino quindi diciamo che in continuità logica e storica con la tonnara la ex tonnara continua a rimanere a presidiare il mare con un altro obiettivo che non è più quello di pescare ma quello appunto di tutelare l'ambiente entrambe erano tonnare di ritorno quella di Sciacca intercettava il passo dei tonni prima di quella di Granitola quindi teoricamente da un punto di vista cronologico intercettava prima i banchi di tonni quella di Granitola era più Foranian perché veniva posizionata su una punta una punta geografica tutte sono novità perché nessuno aveva scritto mai su queste tonnare nessuno aveva mai dato credito e attenzione alle tonnare di ritorno della Sicilia per cui è un libro tutto da leggere tutto da scoprire e tutto veramente da gustare anche per conoscere di più di un territorio meraviglioso per quanto riguarda queste tonnare siciliane secondo lei ci sono ancora atti scoperte che si possono fare o è stato già tutto scritto mai nella storia è tutto scritto ci saranno dettagli che certamente sono sfuggiti agli studiosi e agli appassionati il compito di scoprirli e adesso il momento della rubrica il libro del giorno Londra quando su una casa galleggiante viene ritrovato il corpo senza vita di un giovane uomo brutalmente assassinato il cerchio dei sospetti si stringe intorno a tre donne Laura la ragazza su cui Daniel Sutherland la vittima ha trascorso l'ultima notte Miriam la vicina indiscreta che ha scoperto il cadavere e dato l'allarme non senza occultare qualche informazione Carla la zia di Daniel tre donne che non si conoscono ma sono unite da una caratteristica comune ognuna ha subito un torto che le ha rovinato la vita e forse per una di loro è giunto il momento di trovare pace perché innocente o colpevole ognuno di noi è segnato nel profondo ma alcuni lo sono al punto di uccidere con il suo stile inconfondibile Paula Hawkins autrice della ragazza del treno e dentro l'acqua ci cattura in una rete di inganni omicidi e vendette il suo nuovo romanzo è un giallo è una storia di profonda umanità capace di esplorare quei sentimenti che ci consumano dentro come un fuoco lento fino a distruggere tutto ciò che abbiamo intorno a meno che non troviamo la forza di domarne le fiamme un fuoco che brucia lento di Paula Hawkins edito PM il centro per la missione in collaborazione con l'ufficio di pastorale sociale del lavoro dell'Arcidiocesi di Agrigento in occasione della giornata per la custodia del creato organizza per celebrarla a livello diocesano una passeggiata a Ribera alla foce del fiume Platani la passeggiata partirà alle ore 15 e 30 davanti il cancello di accesso alla riserva e si percorrerà tutto il viale fino ad arrivare alla zona in cui il Platani sfocia verso il mare motori ancora piloti di sciacca protagonisti al campionato regionale di enduro nel palermitano ottime prestazioni per Sant'Angelo e Becchina domenica invece si torna in pista per il campionato regionale di motocross con i piloti del motoclub sciacca in lotta per la vittoria finale nelle varie categorie c'è il servizio piloti seccenzi ancora protagonisti nelle varie tappe dei campionati di motocross enduro ed enduro sprint qualche giorno fa si è svolta infatti la quarta prova del campionato regionale di enduro al via anche alcuni piloti tesserati per il motoclub sciacca presieduto da Enzo Sant'Angelo Paolo Sant'Angelo al termine di una bella prestazione ha centrato il primo posto nella categoria 300 territoriale consolidando in questo modo il primo posto in classifica generale Nanni Becchina invece ha portato a casa la quinta posizione nella categoria Major 250 la gara come da calendario si è tenuta a Bisacquino nel palermitano con ai nastri di partenza oltre 130 partecipanti tappa organizzata dal motoclub Val del Sosio per il campionato regionale di enduro il prossimo appuntamento in programma è adesso per il 10 ottobre a Raffadali per poi concludersi a Messina con i verdetti definitivi domenica prossima intanto ossia tra qualche giorno si torna in competizione per il campionato regionale di motocross quinta tappa a Partinico con Alvia anche i Seccensi Montana e Prestia entrambi in lotta per il campionato e per le loro categorie di appartenenza la gara di Partinico segue quella che si era svolta qualche settimana fa nel Siracusano per quanto riguarda infine il campionato regionale di enduro sprint l'ultima prova si disputerà a Sciacca il prossimo 31 ottobre con organizzazione del locale motoclub ed è con lo sport che chiudiamo il nostro telegiornale grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime edizioni grazie a tutti